Ma le eventi colti sul fatto e subito fermati dalla polizia, Matteo esattamente che cosa è successo sabato scorso? Allora sabato mattina ero presente qui in negozio, ero all'ingresso del punto vendita e praticamente ho visto questo ragazzo che ha oltrepassato l'ingresso con le barriere di antitacheggio ha suonato e al primo scusa lui si è girato, ha guardato e ha iniziato a correre io istintivamente mi è venuto da rincorrerlo fuori perché immaginavo che probabilmente aveva qualcosa di nostro addosso che non aveva pagato perché ho visto che non era transitato in cassa e l'ho rincorso fino al parcheggio del Tagotel, è salito in macchina e l'ha braccato subito la macchina della polizia E lì poi c'era da attenderlo un altro complice all'interno di quell'auto Voi avete segnalato il fatto subito alla polizia e poi che cosa è successo? Ah io ho chiamato subito la polizia visto che poi l'aveva già fermato lì fuori quindi poi dopo sono andato a vedere insomma quello che effettivamente aveva preso e basta poi sono andato al commissariato a fare tutte le pratiche del caso diciamo Che tipo di abbigliamento avevano rubato e dove lo avevano nascosto? Era tutto abbigliamento firmato, abbigliamento uomo e abbigliamento donna Era nascosto praticamente, ce l'aveva qualcosa sotto da come ho capito perché poi io non l'ho visto che proprio si spogliava diciamo e nello zaino questo mi hanno detto A quanto ammonta la refurtiva? Sui mille passero mi pare che era, sì E vi è già stata riconsegnata? E purtroppo è danneggiata quindi non risulta vendibile quindi c'è anche questo danno qui per la nostra azienda Ringrazio vivamente la polizia anche perché poi abbiamo un contatto stretto con loro perché poi qui in negozio siamo molto attenti a questi tipi di episodi e mi interfaccio con loro e li ringrazio perché ci hanno fatto veramente un ottimo lavoro E non era nemmeno il primo furto messo a segno qua? E allora era capitato nel senso che apposta noi siamo tutto io con tutto il mio staff siamo focalizzati molto attenti a questi tipi di episodi perché poi ci stiamo attenti e quindi sì a volte sono capitati e tantissime volte ci siamo accorti e l'abbiamo denunciato e poi abbiamo insomma fatto tutto presente tramite denunce alle forti dell'ordine e la maggior parte delle volte se li prendiamo insomma cioè ci accorgiamo anche perché il dispositivo antitaccheggio è fatto apposta quindi poi ci viene in soccorso anche quello